Ho segnato un solo autogol in una finale mondiale. A quale squadra di club apparteneva l'autore di questo autogol? Vai, bravo, vai, copi, diamo in te. Aspè, cosa? Sparano. Aspè, cosa? Tempo? Direi... Sbagliata. Real Madrid. Avete un suo tentativo. Io, vabbè, tutti i ragazzi. Ah, è un tentativo, perché l'autogol è già in Champions. In finale dei mondiali. 10.